Benvenuti alla questione giuridica del mese dell'Aureggio. Nell'Aureggio Tirolo Alto Adige Trentino viene dato un alto valore alla natura, ci dà la forza vitale ed è la base per il nostro futuro. Per quello è essenziale mantenerla e proteggerla. Do il benvenuto al dottor Thomas Wilhelm, che è conservatore per botanica all'interno del Museo di Scienze Naturali dell'Alto Adige. Buongiorno. Buongiorno. Dottor Wilhelm, ci puoi dire come sono i regolamenti per proteggere le specie vegetali nell'Aureggio? La tutela delle specie si basa su due fondamenti. Uno è la legislazione provinciale. In Alto Adige abbiamo la legge di natura del 2010 che stabilisce la tutela delle specie. Poi c'è anche la direttiva Habitat, cioè la direttiva 92-43 dell'Unione Europea che obbliga tutti gli stati alla protezione delle specie e degli habitat. E come vengono attuati questi regolamenti? Sul livello della legge provinciale, questo vale per tutte le tre province, vi sono regolamenti e sanzioni. Uno strumento molto importante di questa legge sono liste di specie da tutelare. Cioè è il divieto di raccolta da una parte, ma anche il divieto di distruggere l'habitat della pianta. Per quanto riguarda la direttiva Habitat dell'Unione Europea, ogni stato e alla fine anche ogni provincia deve designare, nel caso di habitat e specie prioritari, aree speciali di conservazione, cosiddetti SIC, siti di importanza comunitaria. Si chiamano Natura 2000 queste aree? Cosa sono? E quanto grande è la percentuale di queste aree all'interno dei territori dell'Eureggio? Quindi Natura 2000 è una rete europea di questi SIC, di questi siti di importanza comunitaria. Questi siti contengono dunque habitat e specie che secondo gli allegati di questa direttiva vanno protetti. e la protezione di questi habitat e di queste specie viene effettuata tramite i cosiddetti piani di gestione con l'obiettivo minimo di non peggiorare la situazione degli habitat e delle specie in questi siti. Cosa sono le difficoltà più grandi nell'attuazione della protezione delle specie? Un problema è che sono i dati che mancano, quindi se si hanno troppo pochi dati sulla distribuzione e sulla minaccia di singole specie, allora è difficile formulare delle adeguate misure di conservazione. Un altro problema è il classico conflitto tra biodiversità e urbanistica e biodiversità e agricoltura. Soprattutto l'intensificazione dell'agricoltura crea problemi, cioè non è compatibile con gli obiettivi della tutela delle specie. Un terzo, se mancano i meccanismi di controllo efficaci, allora è anche difficile tutelare le specie. E la società cosa può fare per mantenere la biodiversità? È necessario che in ogni progetto che riguarda il paesaggio naturale e rurale venga integrato meglio l'aspetto della biodiversità. Inoltre, nel caso dell'Alto Arice avremmo massimo bisogno di un inventario degli habitat come base per la pianificazione territoriale. Grazie, dottor William, per il suo invito qui al museo. Prego. Grazie anche a voi a casa ed in viaggio. Per ulteriori informazioni potete contattarci via email oppure attraverso il nostro sito Facebook. Siamo anche su Twitter ed Instagram. Vi invito già oggi alla nostra prossima edizione della questione giuridica del mese in novembre. Arrivederci.